Nella giornata di ieri è andata in scena la prima tranche di partite con le nazionali tra amichevoli e qualificazioni agli europei di giugno. Vince ma non convince l'Italia di Luciano Spalletti, che supera per 2-1 il Venezuela nella tournea amichevole statunitense grazie alla doppietta del genoano Reteighi. Di Lorenzo in campo tutta la partita, prima da terzo di difesa e poi nel suo ruolo naturale con il ritorno alla linea 4. Solo pochi minuti per Raspadori nel finale. Nell'altra amichevole di serata, la Svezia di Jens Cajus si arrende per 5-2 al Portogallo. Il centrocampista del Napoli è stato schierato titolare dal coach Thomasson, venendo sostituito dopo 75 minuti. Accesso alla finale play-off di Euro 2024 per la Georgia di Kvic a Kvarascheli e la Polonia di Piotr Zielinski. Il numero 77 azzurro ha assistito alla vittoria per 2-0 dei suoi sul Lussemburgo dagli spalti, in quanto squalificato, per poi unirsi alla festa nello spogliatoio. Partecipazione con tanto di gol invece per Zielinski nel 5-1 rifilato all'Estonia. Adesso la Georgia sfiderà la Grecia e la Polonia se la vedrà con il Galles per completare i gironi D ed F dei prossimi europei. Questa sera poi andranno di scena Rachmani con il Kosovo e Ostigard con la Norvegia. Domani invece in campo Olivera con l'Uruguay e la Slovacchia di mister Francesco Calzone e Lobotka.